bravo, un equivalente! mi chiamatelo, sei un forno top top ragazzi, abbiamo messo in qualche anno ok, come forse avete capito eh, guarda, guarda come forse avete capito che il 284 non era un gruppo che si portava sul serio quindi non fate come noi fate musica col computer andate a lei, fatevi della gran chimica non fate come noi non fate del punk rock ok dedicata a tutte le ex fidanzate sempre di adoro salita un uomo che negli anni 80 era molto in auge un saluto a le prevede di Ronaldo Sparma, don't cry no, 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 Sparma don't cry n che la comunque si Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti